Se io non stelata, le voglio fare a casa, che cos'è la ricetta di zuppa ricettura? Ah, devi fare... semplicissimo, fai sedano, carote e cipolle, fai una mirepoix, le metti dentro a cuocere, poi dipende da tu come ti piace la consistenza, se no le fai stracuocere, magari vedi qui le puoi anche cuocere in un'acqua di cozze e puoi metterci delle cozze alla fine, quindi portarle al mare, no? Nel senso, apri le cozze, ti tiri fuori l'acqua, te la filtri, te la metti da parte e ti cuoci direttamente, aggiungendo mano a mano, metti sempre un po' d'acqua normale, mentre l'acqua sta riducendo, gli aggiungi dentro un po' d'acqua di cozze e ti fai la zuppa di cicerchia che già sa di mare, poi aggiungi anche le cozze e fai una bella zuppa, no? Per dire, si può fare... la cicerchia sposa benissimo con il crostaceo, con i gamberi, con gli scampi, con le cannocchie, con l'astice, con il crostaceo buono, veramente. Facevo un piatto con gamberi, cicerchie, aceto di satsu, un bel piatto. Quindi sposa anche molto bene con la parte crostaceo, con le vongole. Ti fai una pasta mista con le cicerchie e due vongolette veraci dentro e fai un grande piatto. Wow, wow. Oggi due domande? Sì. Sì, sì, sì. E... Grazie a tutti.